Dove tu mi vuoi? Io sarò. Dove tu mi vuoi? Io andrò. Questa vita io voglio donarla a te, per dar gloria al tuo nome mio re. Dove tu mi vuoi? Io sarò. Dove tu mi vuoi? Io andrò. Se mi guida il tuo amore e paura non ho, per sempre io sarò come tu mi vuoi. Benvenuti, bentrovati a Eccomi, una trasmissione che ci permette di incontrare quanti hanno deciso di rispondere ad una chiamata, la chiamata del Signore. Quest'oggi abbiamo con noi padre Antonello Arundine, guardiano del convento di Rocca Cilento, quindi un testimone importante di quella che è una delle più interessanti spiritualità presenti nella chiesa, quindi la spiritualità francescana. Io saluto e ringrazio padre Antonello Arundine. Entriamo subito nel merito della sua esperienza di vita, quindi quando c'è stata la chiamata per lei? Il Signore chiama da un figlio al sino materno e prende la coscienza di questa chiamata che è diverso. È la presa di coscienza che poi avviene con il tempo, attraverso varie esperienze e anche attraverso un dialogo che si fa con persone che hanno già sperimentato questa chiamata. Quindi è una cosa a tre. Il chiamato, un chiamato e il Signore. Il Signore che dirige, che ti fa incontrare alcune persone, che ti mette sul cammino alcune cose. Quindi se devo dire quando, io non lo so dire, però so che a un certo punto c'è come un moto dell'anima che ti spinge, che ti sospinge a fare questo passo, a rischiare. Perché la chiamata è un gettarsi nelle mani di Dio dove sai quando inizia ma non sai dove ti porterai e cosa farai. Quindi è una chiamata che ha assunto la forma che stiamo vedendo, le vesti che stiamo vedendo oggi in maniera non scontata, mi viene da dire, e non univoca dal primo momento. Nel senso che da ragazzo lei ha vissuto l'esperienza, come si suol dire, secolare. Un giovane impegnato, attivo, presente in parrocchia, ma la prospettiva della vocazione anche sacerdotale non era ben chiara da subito. No, la mia esperienza è qui ad Agropoli. Io sono agropolese di nascita, anche di famiglia. La mia esperienza qui ad Agropoli nasce agli inizi degli anni Ottanta con due figure che hanno fatto tanto per questa che oggi è ormai nella cittadina, diversa dagli anni Ottanta purtroppo. Padre Giacomo Selvi e Don Armando Borrelli. Sono state due figure che hanno giocato molto nella mia vita, nella mia realtà anche di cristiano, fin da quando andavo alle scuole superiori. Quindi è stato un confrontarsi, un vedere come si sviluppava il Vangelo in alcune persone che si erano decise per Cristo. Questi due modelli mi hanno poi aiutato a capire, a comprendere. Frate perché? Frate perché io sono stato sempre molto legato alla diocesi. Sono partecipato agli incontri, anche perché poi facendo la vita parrocchiale era inevitabile partecipare agli incontri che si facevano con le altre persone. Ma c'è stato un momento in cui ha fatto un viaggio ad Assisi, dove non ero mai stato. Ricordo ancora il giorno, il 10 ottobre, il giorno di San Daniele che è un francescano, che tra l'altro poi ho scoperto che ha ricevuto l'abito francescano qui ad Agropoli, il nostro convento soppresso nel 1806. Nel 1218-19, insomma intorno a quegli anni, questo fradaniere di Calabria riceve l'abito proprio qui da noi, ad Agropoli, dove c'era questo convento secondo tradizione fondato da San Francesco. E quel giorno io mi sono recato ad Assisi, il 10 ottobre del 1981, no, 1980. Ricordo bene perché dopo poco ci fu il terremoto. E lì conobbi questa realtà del mondo francescano, anche se conoscevo padre Giacomo, ma non è che pensavo a questa cosa. È stato un luogo che è diventato vivo per me significativo e di là ho poi cominciato a frequentare di più. E quindi la mia vocazione francescana nasce grazie allo stare in un posto dove la grazia di Dio si è resa presente e che ancora oggi, per chi va da Assisi, si può sperimentare. È un luogo particolare San Damiano. San Damiano Naturalmente accogliere la chiamata del Signore, seguire il Signore può avere tante strade diverse. Quindi c'è un momento poi nel quale anziché immaginare appunto la chiamata con una dimensione familiare, quindi costruire la famiglia significa una propria famiglia, sposarsi, significa rispondere alla chiamata del Signore. Altrettanto appunto quella sacerdotale. E quindi proprio perché questo è un passaggio che è avvenuto con una maturità un po' diversa. Posso correggerti? Sì. Non è una chiamata sacerdotale, è una chiamata alla vita religiosa che è diverso. Altrimenti noi entriamo, appiattiamo tutte le forme di vocazione, invece lo Spirito Santo è così bello che è poliedrico. E ci sono numerose chiamate, come tu dicevi. E alla chiamata sacerdotale c'è un'altra chiamata che è la chiamata alla vita religiosa. C'è allo stare insieme, a condividere la propria vita con altri che Francesco adesso si chiama fratelli. Il Signore mi dono dei fratelli e scrive nel testamento. Quindi la nostra, quando si vede un religioso, soprattutto una religiosa, è una chiamata alla vita religiosa. Che poi all'interno della vita religiosa alcuni hanno un'altra chiamata che è la chiamata al sacerdozio, la vita sacerdotale rafforza la prima chiamata che è la chiamata alla vita religiosa. Noi siamo religiosi sacerdoti e ci sono religiosi non sacerdoti, ma siamo tutti religiosi, tutti sono frati. Vediamo la prima foto di padre Antonello che non si vede perché è quello che fa la foto. Qui siamo allo Stadio Olimpico di Roma nel 2014, giornata del rinnovamento dello Spirito Santo. Si chiama Convocazione Nazionale, dei gruppi, dei movimenti che gravitano nel rinnovamento dello Spirito Santo, che è Agropoli in realtà ben radicata dalla fine degli anni 70. Allora questo è significativo perché l'esperienza del rinnovamento è un'esperienza importante che incide molto sulla sua spiritualità. Praticamente sì perché a Agropoli fin dagli inizi ho partecipato a questo incontro di preghiera insieme ad altri amici e abbiamo fatto un bel percorso, durato tanti anni. Ci incontravamo in settimana, di sera, con questa preghiera particolare che è una preghiera nello Spirito Santo, quindi non ricostruito, nella lode, nella gioia, nella semplicità, nella letizia, molto vicino alla spiritualità di San Francesco, il quale pregava in questo modo, lasciandosi condurre dallo Spirito. Ci sono degli avvenimenti a San Francesco belli. Una volta lui si trovava convalescente allo specco di Narni, trovò a terra una volta un bastone, lui lo prese e incominciò a far finta di suonare e incominciò a cantare in francese, perché lui quando era gioioso parlava e cantava in francese, proprio perché era lo Spirito che ti porta a fare questo. E nel rinnovamento c'è molto di questa gioia dello Spirito. E' stata conforme anche la mia personalità, il mio modo di fare, il mio modo di essere, questo modo semplice che nasce anche da una profonda ricerca dell'amore di Dio. Una profonda ricerca dell'amore di Dio. Ognuno poi la trova in qualsiasi ambito. Può essere il rinnovamento, può essere, non so, l'azione cattolica, possono essere altri, come la liberazione, altri gruppi. L'importante è trovare il luogo dove il Signore parla al tuo cuore. Benissimo. E vediamo adesso la seconda foto. Una foto dove c'è un padre Antonello un po' più in carne rispetto a quello. Ed è una foto particolare, perché questo è un momento in cui sta celebrando un matrimonio. Però padre Antonello è anche un giudice del tribunale ecclesiastico, quindi che si occupa anche delle nullità matrimoniali. Uno dei problemi profondi che anche Papa Francesco segnala quando la Chiesa è di fronte alle coppie ferite, alle famiglie ferite e naturalmente anche a situazioni che vengono definite irregolari, però è quello là di capire anche il valore del vincolo nuziale del sacramento, perché potrebbe essere appunto viziato da una nullità. Forse c'è un po' di trascuratezza da parte della Chiesa nei percorsi di preparazione al matrimonio. Questo non lo posso dire perché andremo nel giudizio e non è il nostro compito. Di sicuro la famiglia, il matrimonio rispecchia la società di oggi, una società ferita, malata, una società che crede di fare del diritto alla libertà, qualsiasi cosa, dove tutto diventa diritto e non esistono più doveri. Nessuno parla di doveri, ma di diritti e la famiglia, il matrimonio rispecchia la nostra società, una società che non ha punti di riferimento, che non ha più valori, dove il valore è, direbbe San Paolo, il proprio ventre. E questo diventa problematico, ci si avvicina ai sacramenti, ora stiamo parlando del matrimonio, ma a qualsiasi sacramento, al battesimo, alla stessa confermazione, la cresima, l'eucaristia, come se fosse qualche cosa da fare, ma non si comprende il senso e il significato del sacramento e cosa comporta una vita vissuta sacramentalmente all'interno della Chiesa e per la Chiesa. E quindi il matrimonio è tra i sacramenti più feriti, quindi oggetto anche di una grande aggressione, dove a partire da qualche anno, da diversi anni, anche attraverso i mass media, telenovelas, film, dibattiti, soprattutto in tv, dove la tv che getta, vomita tante parole, la gente assorbe perché non preparata al senso critico, per colpa di questo appiattimento che viene nella nostra società, ecco che si pensa che il matrimonio sia qualcosa da vivere così, finché ci amiamo, finché ci vogliamo bene, finché le cose vanno bene. Il matrimonio invece è una realtà molto più profonda, è un sì per sempre, dove io accolgo l'altro e accogliendolo sposo l'altro nella sua interezza, ed è qualcosa da vivere insieme. Ed è proprio questa, è la problematica che nasce dal vivere insieme, dal vivere insieme, avvicinandosi a un sacramento, ecco, ripeto, superficialmente. E allora ecco che ai primi problemi crollano, crollano, soprattutto poi in una società edonistica come la nostra, e dove tutto è incentrato anche sul possedere l'altro, in senso erotico, nel momento in cui finisce questa passione, tante coppie che vivono nel sacramento, svaniscono, scompaiono, si rompono. Ed ecco che allora c'è oggi questa grande problematica, di persone che a un certo punto, forse anche con la maturità, chissà, prendono coscienza di aver fatto forse qualcosa che non era il tempo opportuno, non si era pronto e non si comprendeva in pienezza il significato. E quindi ecco che vengono a noi al Tribunale Ecclesiastico, che grazie anche alla riforma del Papa, fra Papa Francesco, oggi è molto più facile, con più fiducia venire da noi. E sfatiamo anche una leggenda, perché non è vero, né prima né ora con la riforma di Papa Francesco, che ci sono decisamente quale cifre esorbitanti da pagare. E' importante comprendere che nella Chiesa io trovo tutti gli strumenti, tutti i mezzi che mi danno e mi aiutano a vivere il mio battesimo, cioè la mia santità, che non è solo per i chiamati alla vita religiosa, alla vita saggio totale, ma per tutti i battezzati. E in questa identità ecco la Chiesa aiuta i suoi figli nel capire se vi è un errore, se è qualcosa che ha troncato un percorso, e perché è finito quel percorso. E dov'era il problema che ha fatto sì che quel matrimonio non è mai esistito. E quindi a noi interessa soprattutto come si arriva al matrimonio, come si pronuncia quel sì. Io accolgo te per tutta la vita. E adesso vediamo un'altra foto, cambiamo contesto, perché andiamo in un'occasione conviviale. Sì, questo è il nostro convento. E' la sala, il refettorio del convento, dove padre Antonello spesso si mette ai fornelli. Ogni tanto. E qui sono alcuni ospiti naturalmente di una fraternità. Questo è un gruppo di potenza che vennero a trovarci qualche anno fa. Quello di Capini Bianchi è un altro frate, l'artista è Tacciso Manta. E l'importanza di vivere appunto con spirito francescano questi momenti. Quindi è presente molto nella convivialità, anche la gioia della presenza di Cristo, quello che diceva prima. Non esiste un cristiano che vive da solo. Il cristiano è tale quando c'è un altro accanto a lui con cui poter condividere l'esperienza di Cristo, l'incontro con Cristo, che non è qualcosa del passato o un mito o qualcosa di sentito dire, ma è vivo. E' l'esperienza di Cristo che noi cerchiamo di comunicare perché abbiamo fatto prima le esperienze. E allora lo stare insieme per i cristiani è fondamentale. Com'è bello che i fratelli vivano insieme. E lo stare insieme è anche l'intuizione di Francesco quando inizia questa vita in fraternità. crea questo termine, la fraternità. Prima vi era la comunità monastica, la comunità, ma Francesco parla di fraternità che è un altro gradino, è un'altra vocazione, è un modo di stare insieme diverso dove l'altro è mio fratello, anche lei è mio fratello. bello, brutto, è mio fratello. Perché i fratelli ti trovi, te li trovi. Gli amici te li scegli, i miei fratelli te li trovi. Quindi questo è importante. E' importante perché ti aiuta a trovare un punto di equilibrio, ti aiuta anche a capire la tua, non la sua, la tua difficoltà e da dove nasce questa mia difficoltà nel rincontrare l'altro. Perché è facile poi puntare di te. Lui, no, perché io questo fratello non riesco ad accogliere come si deve. E quindi è un modo di crescere, un modo di purificarsi, un modo ecco di diventare giorno dopo giorno, con le proprie debolezze, un buon cristiano. Un buon cristiano. E adesso invece vediamo quale libro ha scelto padre Antonello per la trasmissione, per la nostra trasmissione. un libro particolare di Smith, Oscar e la dama in rosa. Perché questa scelta? Questo libro è uscito diversi anni fa, più di dieci anni fa, se non sbaglio. Io l'ho trovata in libreria, un librettino piccolo, l'ho preso e l'ho letto in un attimo, si legge in due ore. Mi ha colpito molto perché parla di un bambino di dieci anni che è madre di leucemia, si trova in ospedale. E in questo ospedale vi è questa dama in rosa, che sarebbe i volontari, che spesso vediamo anche i nostri ospedali, che gli fa compagnia ogni tanto. E lui è cosciente che ha poco tempo per vivere, anche se nessuno glielo dice, né i genitori, né i medici. Tutti scherzano, tutti fanno finita che non è così. Ma lui ha coscienza che la vita è breve. E trova un escamotaggio, grazie a questa signora in rosa, che è un'ex lottatrice, insomma, è una bella storiella, e gli dice, guarda, fai finta che ogni tuo giorno vale dieci anni, e io posso stare con te dodici giorni, fino a quando tu raggiungerai 120 anni, e scrivi una lettera a Dio. Anche se tu dici che Dio non esiste, tu scrivi la lettera a Dio, perché più stai con Dio, più parli con Dio, più Dio si renderà presente nella tua vita. Questo bambino incomincia a scrivere giorno dopo giorno, e quindi i dieci anni, i venti anni, i trenti anni, secondo l'orologio. Che ore sono? Ora sono dieci e trenta, beh, ora ho quindici anni. Cosa faccio a quindici anni? Incomincia a innamorarmi. E così ecco giunge fino, non arriva al dodicesimo giorno, perché lui morirà dopo undici giorni, a centodici anni, e dirà, certo che la vecchiaia davvero è terribile, perché mi sento tutti questi acciacchi, non riesco a camminare bene, mi fa male la testa, sono molto debole. E mi ha colpito questo libro perché? Perché è tutto che parla della malattia con cui tutti dobbiamo confrontarci, e la malattia fa parte del ciclo della vita, è inevitabile, è impossibile chiedere a Dio, voglio stare sempre bene, perché Dio non è un mago, Dio ha accettato anche lui, la sofferenza morendo su una croce, con il suo figlio Gesù Cristo. Mi piace perché ci fa comprendere la fragilità della vita, e soprattutto perché noi, la nostra società soprattutto, pensa di vivere eternamente, di avere tutto, di essere quasi dei potenti, e si dimentica invece che la vita è un tempo limitato, che Dio ci dà, e che va spesa bene, perché l'importante non è morire bene, l'importante è vivere bene, e noi viviamo bene solo se ci confrontiamo con cose di grande, che vale la pena, consuma la nostra vita, che io dico che è Dio, e Dio è il mio punto di riferimento, e questo bambino ecco, in questo libro, esattamente questo comprende, che la fragilità della vita va vissuta sempre, la fragilità della vita va sempre vissuta, e alla fine dice, è bello perché alla fine dice, se non ricordo male, l'ho detto anni fa, dice, ora mi addormento, e solo Dio potrà svegliarmi, perché lui scrive questo bigliettino, è un bel libro che consiglio, che fa bene. Naturalmente, la vita di un sacerdote è fatta di relazioni, di incontri, anche di esperienze umane, pastorali differenti, variegate, come ci si rapporta all'altro? E come fare? E con il Vangelo, con la semplicità, Francesco D'Assisi ci insegna di vivere ecco, con molta semplicità, di andare a essere più alto, in mezzo agli infedeli, voi non dite nulla, state con loro, convivete con loro, vivete con loro, poi loro vi chiederanno perché stai con loro, e le spese di chi fa, soprattutto chi fa il volontariato, anche nella Caritas, o in altri luoghi, dove si è a servizio dell'altro, saranno gli altri a chiedersi il perché tu fai, l'importante è che ti sporchi le mani, l'importante è che non stai alla finestra, lo dico spesso anche ai miei parocchiani, l'importante è che non stai alla finestra a guardare e a mormorare, eh ma guarda, perché? Perché il nostro problema è anche questo, stare alla finestra e guardare quello che fanno gli altri e tu non sporcarti le mani, invece il Vangelo è sporcarsi le mani, il Vangelo è mettere le mani in pasta, lavorare, lavorare, ma non per se stessi, guai a me se metto me stesso al centro, ma lavorare per il Signore, mettere al centro, davanti a me, c'è Gesù Cristo, quindi portare le persone a Gesù Cristo attraverso le opere, perché io posso parlare fino all'infinito di fede di Gesù Cristo, della Chiesa, ma se non sono concreto e non concretizzo questa mia fede nel sociale soprattutto, e il sociale ha uno scivile grandissimo che va dallo stare con i poveri, con gli ammalati, nel servizio della politica, con la politica è pura, con la politica è pulita, allora io ho tutto questo scivile dove posso sporcarmi le mani per il Signore attraverso i fratelli, e questo è cristianesimo, è il Vangelo vissuto, diceva un frate della mia provincia, il Vangelo vissuto. Quindi proprio il valore della testimonianza è importante, faceva cenno ad un aspetto che coinvolge tante volte le comunità cristiane, le comunità parrocchiali, e che diventa un elemento di diffidenza nei confronti della Chiesa e di Cristo, ossia il mormorio, il chiacchiericcio. Ah già Francesco, il Papa Francesco l'ha parlato di questo. Papa Francesco addirittura le parole uccidono al pari di un'arma. Ma già anche troviamo anche San Paolo parla di questo, non è che nelle sue lettere, non è che è una novità di oggi, è perché è molto più facile mormorare, chiacchierare, parlare che fare. E anche perché io penso che è molto di anche un po' fastidio che qualcuno fa. Perché chi non fa si intera ma chi non fa fare l'oro ma quando guadagnano perché poi c'è sempre il problema dell'homo economicus che l'importante è quando fai la domanda che lavoro fai non è per sapere se sei operaio, se sei metà meccanico, se sei avvocato, no, no, è per sapere quando guadagni, sto intendo quando guadagni perché nella società di oggi più guadagni e più sei importante, invece è tutto il contrario, cosa fai e chi sei a servizio di chi che è importante perché quanto hai in un attimo non ti appartiene più ma chi sei l'essere è per l'eternità, l'avere è per l'immanenza, per la terra e rimane la terra. E adesso vediamo un po' quali canzoni ha scelto padre Antonello per noi. Una canzone di Gianna Nannini, ragazzo dell'Europa. tu che guardi verso di me hai visto i tori nel sonno ed hai lasciato Madrid stai nei miei occhi e racconti le sirene e gli inganni del tuo sogno che va tu ragazzo dell'Europa tu non perdi mai la strada tu che prendi e calci la notte bevi fiumi di volo come mai la scelta di questa canzone? Non so dire però è una canzone che parla dell'Europa e parla di un ragazzo che rimane deluso dalle sue aspettative e credo che oggi l'Europa debba rifondarsi perché per me ha perso il punto di riferimento tecnoscismo proprio l'Europa quando fu fondata dai grandi padri fondatori era un'Europa cristiana la bandiera dell'Europa era una bandiera cristiana l'azzurro è il mantro della Madonna le 12 stelle sono le colonie della Madonna questa era nell'idea dei nostri padri fondatori e l'Europa deve riscoprire questo soprattutto per i giovani perché Europa significa possibilità di crescita possibilità di conoscere possibilità di viaggiare possibilità di comunicare possibilità di libertà ma nel Vangelo perché io quando pongo il Vangelo alla base della mia vita e l'Europa dovrebbe capirlo questo non potrò mai sbagliare perché è la mia vera libertà è la mia vera identità è ciò che davvero mi rende come ho detto all'inizio felice cioè la gioia che viene dal cielo adesso arriviamo ad una delle sorprese per padre Antonello abbiamo dieci buste in ognuna di queste buste c'è una risposta alla chiamata di Dio quindi io come d'abitudine mischio e quindi vediamo quale è il il passo che ci commenterà padre Antonello apro io e aprirò c'è la valletta non c'è nessuna valletta ci dobbiamo accontentare del bene devo leggere io come vuole posso reggerlo io e commentarlo allora la risposta di Matteo ecco quindi Matteo 9 9 poi Gesù partito di là passando vide un uomo chiamato Matteo che sedeva al banco delle imposte e gli disse seguimi ed egli alzatosi lo seguì io mi fermerei su un verbo in questo versetto 9 vide Gesù vide il vedere di Gesù è importantissimo perché Gesù posa lo sguardo su ciascuno di noi e nel momento in cui io lascio spazio a questo sguardo sono letto dentro il mio cuore e nelle sue mani lui mi conosce l'importante è che io do questa possibilità Matteo dà questa possibilità a Gesù di essere visto e il vedere di Gesù cambia è uno sguardo che cambia e immaginiamo questa scena Matteo lì con tutti i suoi soldi strano abbiamo parlato anche della trasmissione che si è raccolta di tasse ed è uno sguardo che incontra un altro sguardo uno sguardo che ha bisogno di uno sguardo che lo guardi con compassione e Gesù ha questa compassione per tutti che non è una cosa negativa la compassione possiamo dire anche con misericordia che è la stessa cosa è è il cuore di Gesù che si avvicina al tuo cuore con una caratteristica con la stessa passione con la stessa misericordia e attrae l'importante è che tu ti fai guardare che non volti lo spallo e c'è un momento nella vita di ciascuno la vocazione Giovanni nel Vangelo dirà quando scrive la chiamata dei primi quattro discepoli erano circa le quattro del pomeriggio c'è un momento in particolare in cui tu questo sguardo l'hai l'hai sentito ti sei sentito amato ti sei sentito perdonato soprattutto e hai deciso di fare qualche cosa Matteo si alza e lo seguì perché si è sentito amato ogni vocazione nasce da questo da questo amore che è un amore molto più grande di quanto possiamo pensare e immaginare molto più grande è un amore diverso è un amore che non è come tra marito e moglie tra fidanzati qualcosa di diverso non ci sono parole per descriverlo però è una cosa certa che ogni in cui questo amore tu lo senti ti alzi e segui il Signore e concludiamo adesso con una sorpresa una sorpresa perché il contributo esterno che noi mandiamo a fine trasmissione può essere dei più vari quello scelto per per oggi è un contributo che riguarda direttamente padre Antonello che padre Antonello non ha mai visto fino prima di prima di oggi e riguarda un l'inizio diciamo del pellegrinaggio in Terra Santa l'ultimo l'ultimo pellegrinaggio fatto da padre Antonello in Terra Santa una messa sul Monte Nebo e questo è un piccolo stralcio dell'omelia di padre Antonello testimonianza dei propri giorni attraverso una vita che conforme a colui che nel giorno del battesimo ci arresti da lui questo compito possiamo chiamare anche vocazione una chiamata che il Signore ci ha e questa chiamata ci spinge a cercare e a operare sempre per il bene e a volere sempre che il disegno di Dio si possa realizzare e questo avviene attraverso la nostra collaborazione questo avviene attraverso uno sforzo che può costare anche fatica dolore sedore perché la cattiva inclinazione come diceva San Francesco che ciascuno di noi ha deve essere ragizzata lì verso il vero bene verso ciò che è bene per noi beh sorpreso di sì non ricordo che stavate registrando comunque l'esperienza di Terra Santa è un'esperienza che auguro a tutti perché è la terra di Gesù e noi cristiani abbiamo quasi un dovere morale andare lì e soprattutto aiutare i cristiani che vivono in quelle zone che purtroppo stanno quasi scomparendo perché situazioni di guerra di ostilità noi abbiamo ripeto un dovere verso i cristiani di Terra Santa affinché rimangano lì e custodiscano la memoria di Gesù è bello è bello io ringrazio padre Antonello Arundine per essere stato con noi per questa puntata di Eccomi quindi realmente abbiamo cercato di vivere con lui anche e in particolare la spiritualità francescana che lui testimonia nella sua esperienza di vita e nella sua esperienza pastorale e terminiamo questa questa puntata con una frase di un terziario francescano Don Tonino Bello che diceva dividete le vostre ricchezze fatene parte a coloro che non ne hanno ai diseredati della vita non solo a coloro che non hanno denaro ma a coloro che hanno il portafoglio gonfio e il cuore vuoto io vi ringrazio e diamo appuntamento alla prossima puntata con Eccomi Dove tu mi vuoi io sarò Dove tu mi vuoi io andrò amore e paura non ho per sempre io sarò come tu mi vuoi dove tu mi vuoi dove tu mi vuoi dove tu mi vuoi dove tu mi vuoi